Ridare dignità alla propria terra. Questa mattina alle 9.02 vogliamo spostarci a 10 km da Bari, a Valenzano, dove c'è un progetto innovativo di agricoltura sociale e rigenerazione urbana della cooperativa Semi di Vita che sta dando speranza proprio a questo territorio. Siamo collegati con il presidente di questa cooperativa, Angelo Santoro. Buongiorno Angelo, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sei già nei campi questa mattina? Beh sì, io oramai mi divido fra i campi e l'ufficio e stamattina per l'occasione mi sono sposato qui sui terreni, alle mie spalle c'è il pollaio, una delle tante cose che abbiamo realizzato in questi anni su questa terra, abbandonata da tantissimo e quindi sempre, sempre all'opera. Sempre all'opera, ti dividi appunto tra l'ufficio, i campi, avete da poco inaugurato anche un punto vendita, però partiamo da dieci anni fa. Semi di Vita è nata proprio dieci anni fa a Casa Massima. Beh sì, noi eravamo i pazzi che portavano i pazzi in campagna perché abbiamo cominciato un orto piccolissimo di duemila metri con un'associazione che si occupava di ragazzi con disabilità e lì andavamo a prendere il classico scimo del paese, quello che alle sette di mattina sta lì e alle dieci di sera lo troviamo sempre nello stesso posto. Noi abbiamo caricato per un mese e mezzo in macchina e portarlo all'orto e poi dopo un mese e mezzo ce lo siamo trovati dietro al cancello che ci diceva che eravamo in ritardo. Quindi questa pazzia diffusa rispetto a un progetto di agricoltura sociale che per la Puglia in quei tempi era agli albori, poi ci ha portato a costruire un percorso che a febbraio dell'anno prossimo arriverà a dieci anni. Dieci anni, quindi non siete ancora maggiorenni ma vi auguriamo di arrivare a cento anni di questa vostra attività. Quindi siete nati appunto come progetto di inserimento lavorativo persone svantaggiate. Poi però ecco a un certo punto vi siete trovati anche a in qualche modo poter far nascere qualcosa in un terreno confiscato alla mafia? Beh sì, nel 2019, 2018 per l'esattezza, Valenziano viveva un momento abbastanza critico perché il Comune era sciolto per infiltrazioni mafiose, c'era un bel movimento su Valenziano, Operazione Domino, 90 arresti in tutta Italia e da lì vengono confiscati quasi 88 beni a Valenziano. Immaginate un paesino di 18.000 abitanti. Tra questi 55 era una porzione di terreno destinata a diventare il campus universitario più grande d'Europa. Le commissarie all'epoca mettono a bando questi terreni e noi dai due ettari a Iapigia, quindi dal nostro piccolissimo orto in città, decidiamo di lanciarci in questa avventura che per molti era impossibile perché proprio per effetto di queste attività sul terreno da 10.000 alberi di ulivo noi ne abbiamo trovati 600 e recuperati 200. e quindi nell'arco degli anni gli ulivi erano stati rubati, bruciati o tagliati per poter poi costruire. Tutti gli agronomi che portavamo qui facevano marcia indietro quando li portavamo sui terreni dicevamo ah sì voi qui volete fare agricoltura, sì sì bravi bravi e scappavano perché gli investimenti erano tanti e impegnativi e noi invece come stato per Bari abbiamo avuto una visione rispetto a riprendere un bene confiscato e a trasformarlo in bene comune. Ed eccoci qua che a distanza di 4 anni, l'anno prossimo a febbraio sono 5 anni di gestione, abbiamo quasi investito 600.000 euro sui terreni, ripristinato 12 ettari a frutteto, abbiamo messo le galline ovaiole qui alle mie spalle da maggio, ci sono 700 galline in giro per il pollaio, abbiamo fatto il pozzo, l'impianto idrico, un terreno che sta prendendo vita grazie anche alla comunità valenzanese e a tutto l'Interland perché questo progetto, io li ricordo sempre, non è solamente il nostro ma è di tutti. È un progetto appunto della città, la città che si è trovata coinvolta, il paese di Valenzano che si è trovato appunto coinvolto in questo progetto come occasione di sviluppo. Quindi ricapitolando, Angelo, ci sono le coltivazioni avviate nei terreni confiscati alla criminalità a Valenzano, ci parlavi appunto del pollaio, quindi delle galline ovaiole e poi l'orto sociale urbano del quartiere Iapigia e ci sono state anche delle attività che avete condotto lo scorso anno nel carcere minorile di Bari. Beh, non è un'attività ma è un progetto a tutti gli effetti perché nel 2017 l'amministrazione penitenziaria a livello nazionale fa una ricerca e attesta che se la formazione lavoro fatta all'interno del carcere sfocia in un inserimento lavorativo all'esterno, la recidiva che in Italia si attesta più o meno al 70-90% si abbassa al 2-20%. Grazie a questo sono partiti dei nuovi progetti di inserimento lavorativo all'interno delle carceri, tra cui anche il minorile. Abbiamo avuto l'occasione di costruire una serra col Ministero della Giustizia e il carcere all'interno, 400 metri quadri, dove oggi d'inverno coltivano funghi cartoncelle ed estate o comunque tutto l'anno e si chiamano prodotti alimentari. Questo per far sì che i ragazzi abbiano una formazione che poi possano spendersi queste soft skill poi all'esterno nel lavoro e nella quotidianità, perché l'importante è che loro siano impegnati e che trovino un lavoro che li distolga dal motivo per cui poi sono finiti in carcere. E questo per noi è una fase importantissima perché poi quando i ragazzi rispondono bene si danno una possibilità, perché questo è importante, per iniziare il percorso, poi li portiamo a lavorare anche sui terreni confiscati dalla mafia valenzana. Ecco, quindi mi verrebbe da chiederti, immagino che tutto questo non lo faccio da solo, che ci sia una squadra dietro, tanti giovani motivati come te che portano avanti queste iniziative. Non vi siete fatti mancare nulla, è nato anche un punto vendita dei vostri prodotti. Beh sì, infatti non ci facciamo mancare proprio niente. Era necessario perché a un certo punto dai terreni noi produciamo salsa di pomodoro con pomovero, abbiamo diverse conserve prodotti sott'olio. Poi quando è arrivato il pollaio ci siamo detti, beh, forse un punto di smercio dei nostri prodotti è necessario. E quindi per rinforzare quell'idea di comunità per cui abbiamo preso poi i terreni a Valenzano, ci siamo imbarcati in questa grande attività dove tutti i giorni uno può venire a fare la spesa ed è un punto vendita certificato bio come tutta l'azienda. La scelta di essere bio è perché noi coltiviamo l'essere umano e la terra alla stessa maniera. Che bello Angelo. Infatti è importante il punto vendita perché ha un senso economico, perché voi vendete i prodotti e quindi in qualche modo si sostiene la cooperativa. Però volete che non ci sia solo un senso economico, ma che diventi anche un luogo di aggregazione. In che modo? Beh sì, stanno per partire delle attività invernali. Nel termine del punto vendita faremo presentazioni di libri, degustazioni, per fare in modo non solo di coinvolgere la cittadinanza, ma anche poi la città metropolitana di Bari. Noi non abbiamo servizi retribuiti dallo Stato come centri di urni, centri residenziali e comunità. Noi, passatemi il termine, campiamo dalla campagna. Quindi tutto quello che riusciamo a vendere, tutto quello che riusciamo a fare attraverso i progetti e quello che è la venda del prodotto, riusciamo a sostenere poi gli inserimenti lavorativi. E questo è un passaggio fondamentale perché è attraverso il lavoro che si dà dignità all'uomo. È uno dei passaggi fondamentali anche della nostra Costituzione. E questo dà la possibilità anche ai ragazzi di ottenere una remunerazione che li faccia rendere conto che si può campare anche di cose positive, di cose belle e che si può avere una vita normale senza poi far dentro e fuori dal carcere. Questo per noi è fondamentale, quindi vi invito tutti a venire al nostro appunto vendita via Capurso 15 a Valenzano. e a sostenerci e a comprare un prodotto. I nostri prodotti non sono fatti con l'obiettivo di vendere per pietà perché li fa un carcerato. Non è questa la nostra intenzione. Si fanno prodotti ottimi, buoni, sani, biologici, perché la gente deve venire a fare la spesa da noi e deve venire a fare tutti i giorni, così noi possiamo tutti i giorni dare la possibilità sia a noi che ai nostri ragazzi di poter creare un progetto che si sostenga nel tempo. I progetti belli si contagiano tra di loro, sono venuta a conoscenza della vostra cooperativa attraverso Avanzi Popolo 2.0 di Bari, quindi comunque ecco la bellezza delle storie e delle sinergie che si intrecciano e quindi di raccontare quando c'è il bene bisogna proprio raccontarlo. Questo è uno dei nostri punti di vista. Angelo, volevo chiederti anche un'altra cosa, siete in via Capurso 15 a Valenzano con il vostro punto vendita, quindi un unico punto vendita, ma pensate anche di allargarvi? Non so, magari su Bari, magari, direi tu. Guarda, abbiamo in questo momento, noi continuiamo a gestire fino a febbraio dell'anno prossimo otterrabilmente il punto vendita su Bari, che ha anche un terreno di due ettari, quindi comunque la nostra presenza su Bari c'è. Ora stiamo valutando una serie di cose anche perché ci vogliono le forze, cara Paola, nel fare le cose, non solo economiche ma anche di gente, che si impegna ovviamente in un progetto grande come il nostro. Bari è una città che non vogliamo abbandonare assolutamente, stiamo cercando di trovare una soluzione per rimanere in città. Moltabilmente nei prossimi mesi partirà l'attività del domicilio, proprio per non lasciare i nostri clienti a bocca asciutta nei nostri prodotti. Stiamo progettando questa cosa e speriamo che parta il prima possibile. Bari ci ha accolto nel 2014 con veramente grandi, veramente con un grande affetto e questo non lo dimentichiamo. Non vogliamo snaturarci avendo solamente un negozio perché sennò sarebbe un protivendolo in mezzo a tanti altri. Vorremmo invece trovare un terreno per poter continuare a coltivare all'interno della città di Bari. È un po' difficoltoso perché oggi si costruisce ovunque e quindi oggi tutti quanti aspettano di costruire e questo ovviamente fa scartare un'ipotesi di agricoltura sociale. Però la speranza è sempre l'ultima morire, questo ovviamente ce lo auguriamo tutti. Certo, e noi continueremo comunque a seguirvi e nel nostro piccolo se possiamo anche a dare voce ai vostri progetti, alle vostre attività. Ci fai un'inquadratura del luogo in cui ti trovi, Angelo? Sì, allora, io sono un po' contro luce. Avevo una gallina fra le gambe, non ho capito che fin ha fatto. Peccato, infatti volevo chiederti di inquadrare una delle protagoniste. Però vi faccio vedere le signorine di qua, visto? Non so se si vedono, eh. Eccole. Si chiamano le galline ovaiole? Ovaiole, sì, galline ovaiole, sono per le uova fresche e ne abbiamo circa 700 in questo momento in allevamento. Stamattina sono all'interno perché devono deporre le uova. Poi verso l'ora di pranzo le facciamo uscire, le facciamo gironzolare nella loro area di vita. Ecco, galline felici. Ah, felicissime, infatti volano che una bellezza. Io non avevo mai visto una gallina così volare in giro per gli allevamenti. Che meraviglia, Angelo. Immagino che vi possiamo seguire anche sui vostri social. C'è un sito internet della cooperativa Semi di Vita, quindi basta digitare Semi di Vita. Immagino Facebook, Instagram, web. Eccola dove era andata, eccola dove era andata. Eccola. Opla, eccoci qua. E dove è finita, eh? Dove è finita, dove è finita? Vieni qua, vieni. Ecco, momenti bucolici. In diretta su Padre Pio TV questa mattina. Angelo, grazie di cuore per averci dedicato il tuo tempo preziosissimo, quindi ti lasciamo al tuo impegno, al tuo lavoro e davvero complimenti per quello che fate. Angelo Santoro, presidente della cooperativa Semi di Vita. Grazie, alla prossima occasione. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie, ciao. Buon lavoro. Grazie davvero. Questo è il bene che ci piace raccontare, il bello che le storie che ci piacciono raccontare. Allora, che ci piace raccontare? Ci fermiamo qualche istante. Di nuovo linea alla regia. Poi un'altra storia. che ha sempre il sapore del sociale perché parleremo di un'associazione lunghi cammini che coinvolge giovani, giovanissimi in crisi che hanno commesso reati per dargli una seconda possibilità. Restate con noi.